Un saluto a tutte le città slow di tutto il mondo per Città Slow Sunday, un giorno importante che ogni anno ci consente di far rivivere più degli altri giorni lo spirito che anima tutte le persone delle città slow. Le città del buon vivere dicono oggi più degli altri giorni che si può fare tutto in modo diverso, si può fare tutto secondo lo stile di vita delle città slow, le città del buon vivere. Un saluto a tutti gli amici di Fongling, la prima città slow di Taiwan che quest'anno con noi festeggia Città Slow Sunday.